ciao sono samuel pioloco sto facendo il corso dei big cruise mi trovo bene lavoro sempre sulla stessa ditta da vent'anni ho voluto fare questo corso perché sono un elettricista manutentore e volevo saperne di più nella programmazione di PLC nel corso non trovo grosse difficoltà se trovo delle difficoltà c'è un bel gruppo di supporto che ti dà una bella mano ti aiuta ti dà dei consigli il corso si lo consiglio a molti che vorrebbero diciamo implementare o conoscere la programmazione PLC per quanto dove sono arrivato ad ora molto bello perché fa un bel ripasso di tutto quello che sono le basi per la programmazione per andare avanti ti ringrazio ciao samuel